Ben ritrovati amiche e amici, come state? Un saluto a tutti, vi invito come sempre a commentare numerosi in questa zona, a lasciare un bel like, a iscrivervi se lo avete ancora fatto, al nostro canale YouTube in cui parliamo un po' di tutto. E devo dire che in queste ore sta succedendo davvero di tutto. Partiamo subito con un'analisi obiettiva rispetto alla gara di ieri sera con l'Inter che perde, perde pur giocando una discreta partita, una buona partita contro il Manchester City che invece rispetto a quello che ci si aspettava fa una partita decisamente deludente. Alla fine ci sono delle recriminazioni importanti con Lukaku protagonista, come nella finale di Europa League, anche questa volta è negativo per il gol sbagliato, centrale di testa da un metro per aver parato anche il colpo di testa di Marco che aveva appena preso la traversa, anzi a quel punto non era più di testa, credo. In generale occasioni sprecate anche dall'Autaro Martinez che danno quel rimpianto che forse l'Inter non si aspettava. Vince il Manchester City la sua prima Champions League e alla fine appunto rimane in casa Inter tanta tanta amarezza, ultima gara di qualcuno sicuramente e ovviamente insomma gli sfottò dall'altra parte perché le finali, come dicevamo ai tifosi gioventini, sì ci devi arrivare ma devi vincerle, arrivarci non è un trofeo, bisogna vincerle anche se è davanti a una squadrone, con il Manchester City che mi sembra sia arrivato un po' con la lingua di fuori in questo finale di stagione. Paradossalmente l'Inter con il suo reparto magari un po' più debole della difesa ha fatto bene, molto bene, nel suo reparto sulla carta più forte attacco tra Geco Lautaro e Lukaku ha fatto male, molto male. E questo sicuramente segna una partita che rimarrà comunque nella memoria dei giocatori e tifosi dell'Inter e non solo. Parlando di Juventus, a proposito di finale poi andiamo sul discorso Milan. Attenzione perché Allegri ha ricevuto davvero un'offerta dall'Arabia Saudita, un'offerta che andrebbe a far guadagnare il tecnico Livornese molto di più rispetto a quello che sta prendendo oggi. Sapeteci che già la Juve insomma è rimasto per il contratto. Lalilal ha pronto un super biennale per lui da 40 milioni di euro in due stagioni. Quindi un biennale da 40 milioni di euro. Lui è ovviamente tentato, sta parlando attraverso il suo entourage con il club arabo e vediamo se farà questa scelta che significherebbe un po' abdicare rispetto al calcio che conta. Però 40 milioni per due anni sono davvero tanti e sappiamo quanto Allegri comunque sia molto legato, come tanti, al fattore economico. E quindi è una situazione da monitorare. Detto che è giunto lì ancora Napoli e che Napoli deve ancora trovare il nuovo allenatore. Questo davvero è molto curioso, anche se siamo l'11 giugno. Però insomma, chi ha tempo non perda tempo, si direbbe. A proposito di Inter, attenzione alla possibile uscita di Onana con il Chelsea che vuole un portiere. Ha puntato Mignan, ma è più facile l'uscita di Onana. Inzaghi dovrebbe rinnovare, mentre Lukaku Zanga ha detto che ha un contratto con il Chelsea. Ne parleremo, appunto. Proseguendo poi andiamo anche in casa a Milan, dove è sfumato. Uno dei primi obiettivi c'è Jori Tillemans, che va alla Stonevilla. Lui aveva messo in pole rispetto a Roma e Galatasaray il Milan, ma la Stonevilla ha un potere economico che lo ha convinto, anche se non farà Champions, a vestire di nuovo i panni del giocatore della Premier League. Lui è uno che sfuma. In pratica ha sfumato anche in Dica, con il Milan che si è mosso un po' tardi. In Dica che diventerà un giocatore della Roma per circa 3,8-4 milioni di euro stagione. E ora al Milan aspetta una risposta da Marcos Turan, figlio di Liliama, attaccante, che ha il contratto in mano, quindi può vendersi al miglior offerente. Lui deve dare una risposta tra oggi e domani, massimo martedì al Milan. Ha in mano, pare, un'offerta economica dal PSG di 5 milioni di euro e bonus, superiore a quella del Milan, quindi il PSG dovrebbe arrivare a offrire 6 milioni di euro. Vediamo se lui ne fa considerazione solo economica o se magari viene, diciamo così, convinto da Pioli che diverse volte ha telefonato al francese negli ultimi giorni per convincerlo a venire al Milan per un progetto che per lui sarebbe centrale. E' chiaro che dopo Di Kake sfuma sul nascere, Tillemans dovesse saltare anche Turan, come è anche possibile perché dall'altra parte c'è il PSG. Ecco, il mercato del Milan, che a trattative, rumors, spifferi, è partito con determinazione, vedrebbe sicuramente delle discussioni da parte dei tifosi che stanno già misurando la temperatura, stanno già cercando di verificare un po' la situazione e le capacità manageriali anche sul calciomercato di questo nuovo corso targato Furlani, Moncada e Pioli che ha più potere. Per quanto riguarda il centrocampo il Milan deve fare due profili, in questo momento si è decisamente raffreddato per volontà del Milan con quello di Loftus Chic che Maldini e Massara avevano già bloccato per 18 milioni di euro. Attenzione a Carnei, Ciucu e Mecca, che già lo scorso anno il Milan voleva, su indicazioni appunto di Moncada, è un inglese extracomunitario, quindi 19enne, alto 1,85, che ha il piede destro e gioca nel Chelsea, chiedo scusa, anzi 1,87, chiedo scusa di nuovo, gioca nel Chelsea, ha fatto 14 partite, ha giocato appena il 10% dei minuti e è in uscita, il Champions non ha fatto neanche un minuto, è in uscita, overbooking pazzesco lì, sapete, il Milan potrebbe prenderlo anche in prestito con diritto di riscatto. Giocatore interessante, che ha anche attitudini offensive, ha ottime qualità fisiche e anche tecniche, è un centrocampista appunto completo, che può giocare in mezzo, anche un po' più avanti, molto molto duttile, piace molto appunto a Moncada. Se lo prendi in prestito può abbinarlo anche a un'altra operazione, invece onerosa. Ma il mercato del Milan comunque non finisce qui o meglio, non inizia qui, perché c'è un nome molto caldo per la fascia destra, abbiamo detto Ciuc e Mecca, ma anche Ciuc e Weze, lì ciuc ciuc rischiamo di inciampare sempre a livello dialettico, che invece l'esterno destro nigeriano del Villareal, contratto e scadenza 2024, piede Mancino, 24 anni, alto 1,72, quest'anno ha fatto una buonissima stagione, con 6 gol e 5 assist in 37 partite di Liga, ha anche 4 reti in 27 gare con la Nigeria, in Liga una rete ogni 392 minuti, che non è una media straordinaria, però la sensazione è che possa crescere, ha detto che giocava in livello reale, quindi una squadra comunque non di primissima fascia, che può magari aiutarlo anche a rendere sottoporta. Per il resto attenzione poi alla situazione di Meñan, con il Milan che in questo momento non lo mette sul mercato, lo dica era incedibile, è chiaro che però col Chelsea si sta parlando, e il Chelsea sta provando di nuovo con il suo entourage a cercare di sbloccare qualcosa. Però mi sembra di aver intuito anche ieri, da persona molto vicino all'ambiente Inter, che potrebbe partire una destinazione Chelsea, a quel punto su Meñan sarebbe tranquillo, e l'Inter andrebbe a prendere appunto Vicario, mettendo da parte anche tanti 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 soldini. Vi segnalo a proposito di situazioni che si stanno accavallando, una dietro l'altra, ieri, o meglio stamattina, saluto molto freddo, diciamo neanche saluto tra Skriniar e Marotta, con Marotta che ha fatto un gesto di saluto, proprio per come andate, insomma è rimasto ascoltato Marotta. Su Skriniar devo dire che si è giocato un po' di, non credito, ma di valutazioni, perché aveva in mano 50 milioni un anno fa, e adesso va via a zero ieri, la sua ultima convocazione dell'Inter. Ditemi che cosa ne pensate, per il resto attenzione appunto, il piano B per il Milan è Scamacca, vediamo, nome che mi rendo conto non scalda più di tanto, e Kamada che dovrebbe comunque essere un giocatore del Milan entro fine mese, anche lui parametro zero. Ditemi che cosa ne pensate, commentate numerosi qui sotto e iscrivetevi in questa zona. A presto!